Non ci possiamo nascondere che negli ultimi decenni l'arte sacra, ivi comprendendo la musica, è in grave crisi. Basterebbe guardare chi occupa molte posizioni importanti in questo mondo per capire che certamente c'è qualcosa che non va. Mi è ben chiaro che si è persa l'importanza e la funzione che ha l'arte e la musica nella nostra vita di fede. Tra l'altro essa ha la funzione di mettere ordine, di essere cosmica, perché sa che il sacro lasciato a se stesso diviene sregolato. Diceva Umberto Eco in sé passeggiate nei boschi narrativi quanto segue. Questa è la funzione terapeutica della narrativa e la ragione per cui gli uomini, dall'inizio dell'umanità, raccontano storie. Che è poi la funzione dei miti, dar forma al disordine dell'esperienza. Se quello che dice Eco è vero per l'arte in senso generale, tanto più è vero per quell'arte che si confronta con l'indicibile. Che per toccare un lembo del suo mantello deve spesso inoltrarsi per la valle oscura. Rimettendo ordine nell'esperienza estetica ed estatica di Dio, l'arte si ricollega a lui che è sommo ordine. Oggi si loda invece il disordine, il caos, lo squilibrio. Si pensa che essi non siano soltanto momenti di passaggio che ci consentono poi un ricongiungimento verso l'ordine divino, ma quasi obiettivi del nostro cammino. Ma Dio è un Dio di pace e ordine, di armonia ed equilibrio, che spesso si raggiunge passando per il caos. Ecco l'importante funzione dell'arte sacra e della musica sacra. Ecco quindi perché esse dovrebbero essere vera musica e vera arte.